Musica dai basso Fagli un ganchetto, vai, chiudi la distanza, agganza la gamba, uffì, fagli un po' uccidare. Vado a uffì, fagli un po' uffì. Grazie a tutti. Uppi, non tenere il braccio niente. Fai postura, blocca il braccio. Esatto, quello. Uppi, oggi al braccio, tenilo dentro, tenigli una mano sull'alca, fai l'apertura classica. Mettigli il ginocchio dietro al sedere. Uppi, non teni il braccio, scacci dietro al sedere. L'alto di alba per scarciare dietro al sedere. Uppi, bene, l'alca. Correglie, correglie. Ok, abbraccia la testa adesso. Hai l'impressione. Lancia il modo, lancia il modo. Si ricorda tutti sempre che è obbligatorio rinforzare l'avastanza. Si ricorda tutti sempre che è obbligatorio rinforzare l'avastanza. Uppi, attacca il braccio. Attacca il braccio che ha davanti. Ora stila la gamba, dopo che attacchi il braccio, stila la gamba. Dai il peso col corpo a quel braccio, ok? Ok, vai in americana, ora tirala. Vai, vai. Oh! 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 Oh!